Entrano nel vivo i riti della settimana santa, tradizione fede che si intrecciano in un concentrato di partecipazione decisamente crescente, il silenzio e il buio, caratteristiche essenziali per accogliere nella notte la processione struggente della Vergine Addolorata Trani, uscita puntuale dalla chiesa di Santa Teresa come sempre alle tre per percorrere gran parte della città antica attraversando chiese e luoghi simbolo come il carcere femminile, i piedi scalzi dei confratelli della Addolorata per accompagnare il simulacro con un seguito di migliaia di fedeli in religiosa e silenziosa partecipazione. Si è tornati in quest'annata anche in cattedrale per la visita all'altare della riposizione dopo gli anni dei lavori. Una processione che è terminata all'alba dopo un cammino durato ore in cui i simboli e partecipazione sono elementi fondamentali. Questa notte l'intera città si sente unita alla madre e quindi è anche un modo per sentirsi partecipe con lei di questo cammino di preghiera, di questo cammino di fede. Davvero tutta la città cerca di poter mettere come segno sui propri balconi un cero, una luce, a testimoniare quel desiderio davvero di poter oltrepassare il buio che si sperimenta in questa notte, non soltanto fisicamente ma il buio che tante volte tante persone sperimentano nel proprio cuore, nel proprio cammino di fede nella propria esperienza di vita a causa di situazioni difficili, dolorose. Sapere che c'è lei che passa tra le vie della nostra città attraverso quel lumino vuole davvero provare a riaccendere in noi quella luce di cui abbiamo bisogno. C'è però stato anche un momento di tensione a inizio processione con un gruppo non identificato di giovani che ha rotto il tradizionale silenzio con dei cori ed applausi denigratori accompagnati dalla reazione dei fedeli che hanno fischiato. Un momento che è stato sottolineato come una vergogna dal sindaco della città Medeo Bottaro che ha parlato di un problema di ordine morale minacciando anche la chiusura per il prossimo anno di tutti i locali anche se, ha spiegato il primo cittadino, non c'è sicuramente un'emergenza di ordine pubblico, una brutta appendice di cui è davvero difficile darsi una spiegazione.